Convertire gli utili in progetti sociali per la comunità. È il modello portato avanti da Fratelli e Possibile Cooperativa Sociale di Rimini attiva nei settori dell'edilizia, della formazione, dell'inserimento lavorativo e della mediazione. Nel 2021 la cooperativa ha tagliato il traguardo dei 15 anni di attività. Continua il viaggio di Ravenna Web TV fra i giovani cooperatori di Coff Cooperative Romagna durante un periodo complicato come gli anni caratterizzati dal coronavirus. Fratelli e Possibile è una cooperativa sociale A e B. Si occupa di edilizia, ristrutturazioni in edilizia tradizionale, costruzione di case in legno. Abbiamo fatto uno studio di ricerca con l'Università di Bologna e brevettato un pannello di legno per nuove costruzioni antisismico. Nella sezione dei servizi si occupa di mediazione del conflitto, mediazione sociale negli alloggi popolari, nelle periferie difficili delle nostre città e di accompagnamento alle famiglie fragili. Sviluppiamo anche sportelli psicologici nelle scuole, nei comuni e nelle aziende come sostegno al benessere lavorativo, al benessere della persona, al clima aziendale e agli strumenti di comunicazione nelle dinamiche di gruppo. Una società che ha come mission quello di creare lavoro, di creare lavoro per le persone svantaggiate e di creare attività che abbiano un'eroggiata sul territorio. Quindi la forma cooperativa e di cooperativa sociale è stata proprio scelta per queste caratteristiche che rappresentano un'identità che le persone avevano scelto e che rispondeva e risponde tutt'oggi allo sviluppo e allo essere sollecitati costantemente, a creare servizi nuovi e idee nuove, a stare al passo coi tempi in una logica anche che la cooperativa cresce e cambia con le persone che ci sono, non è di nessuno in particolare ma è di tutti e proprio con le persone nuove anche lo scambio soprattutto intergenerazionale nel tempo ha saputo creare e fare innovazione sia in campo edile che in campo sociale proprio perché è spinta da questo desiderio di rispondere al bisogno della società e al bisogno di lavoro. In realtà noi crediamo ed è anche l'ispirazione con cui è nata la nostra cooperativa che in realtà lo svantaggio appartenga a tutti nel senso che ogni persona abbia in sé delle potenzialità ma anche dei limiti e delle difficoltà e quindi crediamo nel principio di essere fratelli quindi di poter stare insieme e di poter crescere insieme quindi il lavoro per la nostra cooperativa è inteso come quel luogo in cui tutte le persone possono trovare accoglienza in cui è il lavoro stesso uno strumento di crescita delle persone. Appartenere al mondo cooperativo di conseguenza per noi è un valore altrettanto fondante perché crediamo nella rete, crediamo nello scambio, crediamo nel crescere insieme fondamentalmente crediamo nella possibilità che essere fratelli sia veramente un valore che garantisca uno scambio reciproco e una scelta.